Buongiorno amici siamo a casa di Gavreau, è la prima notte, eccoci qua salutare la famiglia, la big family. Ciao stai qui, stai qui. Stai qui. Stai qui. Stai qui. Stai qui. Stai qui. Bye bye. Direzione distribuzione occhiali, dove andiamo a distribuire gli occhiali? Oh, confine con la Siria, comunque vicino alla Siria, ma io l'ora da qua. Ti manco? Tutto l'acqua. Ciao. 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 Si, perché ti explica, potrebbe poter venire con noi. Si, ovviamente. Si, ovviamente. Certo. Si, ovviamente. Bananas. Bananas. Cosa? 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 Cosa. Cosa? 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 700. 700. Wow. È come un concerto. Sei un rockstar. Puoi cantare un canale per noi? Che bella cosa una giornata e sole Allora ragazzi c'è una buonissima notizia Aya è una cantante e adesso canterà un pezzo per noi Yuhuuu 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 Yuhuu I promise I'm gonna sing but not now Ok Ok Allora che c'entra qualcosa ma non ora Te ho promesso Yuhuu I say thanks also to Hannah McNady Yuhuu She's really our strong woman here in Jordan And uhh... Yes Yuhuu Thank you Bye Yuhuuu Yuhuu 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 Pronti per accogliere 700 persone che verranno qui Wow eh A cercare un po' di aiuto E qua 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 Gli strumenti Ok Queste sono altre Anche l'ottica alfa Questi due hanno dato Gli strumenti per La realizzazione dei controlli E queste Queste sono ottiche locali Come si runnete Ciao 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 So, siamo pronti per oggi Pronti Stiamo pronti Certo Sì Questa è non solo la scuola, ma la scuola seconda scuola che è collezionata da Pauer e per ogni scuola abbiamo la prescrizione. Come sai la prescrizione? Banan fa un grande lavoro con la foto di ogni persona. Ciao, ciao! Ciao! Grazie a te, Simone. Grazie a te, Simone. Grazie a te, Simone. Ok, grazie a te, grazie a te, grazie a te. Grazie a te, grazie a te, grazie a te. Siamo al confine con la Siria e la Palestina, nel nord di Israele. E quindi ci sono sia propri palestinesi che siriani ma anche persone povere del posto. Ok. E queste organizzazioni si occupano di diffondere le notizie relative alla disponibilità di aiuti e tra le popolazioni nella popolazione e quindi in questo caso hanno invitato 700 persone. E visto che è un overbooking, diciamo, perché noi abbiamo meno occhiali. e quindi ci sono i nostri amici. Hanno anche, e loro sono consapevoli, hanno organizzato un Medical Day. e poi brizza e diabetisi. e... e... fredda. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti